Prende spazio Grant, chiaramente in mano Galloway, 8 secondi per attaccare, paleggio insistito, tripla Galloway, sbaglia, ancora il rimbalzo di Black, fattore come sotto le plance, che offre un'altra chance di trasformazione a Smith. Oglietti, Smith, fuori anche Grant per un'eventuale ricezione, Smith invece si prende il tiro, segna, bruciata la difesa di Venezia da un sontuoso, cominciò il terzo quarto Venezia, una palla persa. Vitali viene lontano da Nicolao, vuol far vedere il contatto, poi Smith prende il tiro, da tre! Lascia a Galloway, la responsabilità se la prende lui, ultimi dieci. Galloway ribalta, Smith per il tiro, da tre! Da tre!